Secondo giorno di esami per gli 11.000 studenti abruzzesi alle prese con la maturità. Dopo il tema di italiano di ieri, oggi, come di consueto, spazio alla seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studi scelto. Al liceo classico, ai maturandi, è stata sottoposta una versione di latino. Il brano selezionato è Ultimi giorni di Tiberio, di Tacito. Quest'anno, per la prima volta, il brano è accompagnato da una breve introduzione che ne spiega il contesto. Tacito non usciva agli esami di maturità dal 2005. Il piano tariffario di un operatore telefonico per chiamate all'estero è uno dei due problemi di matematica proposti ai maturandi del liceo scientifico. Il problema sulle tariffe telefoniche proposto per l'indirizzo Scienze Applicate conferma la scelta di privilegiare in questa maturità 2015 il problem solving. Poi, per quanto riguarda i quesiti, c'è la presenza di alcune domande relative alle equazioni differenziali, ai limiti di successioni e geometria nello spazio. I restanti quesiti sono tutti relativi ad argomenti tipici dell'analisi. Al linguistico, i maturandi si sono dovuti cimentare con un articolo sul cibo. A Nottingham, una donna combatte la povertà alimentare con il social eating, un articolo del The Guardian, pubblicato a febbraio 2015, che diventa spunto per l'analisi del testo e per la produzione di un contenuto di riflessione. In linea con l'evento Expo 2015, la traccia d'attualità d'inglese riguarda dunque il cibo, una panoramica di un sistema chiamato Food Bank, che si occupa di rilevare il cibo in surplus dei supermercati e di ridistribuirlo ai più bisognosi. All'Istituto Turistico è stato scelto un articolo in inglese del Telegraph. I maturandi hanno svolto il loro tema partendo da un articolo di Day Lewis, pubblicato lo scorso 13 febbraio, un pezzo tutto dedicato al cibo e a come il suo linguaggio possa aiutare a viaggiare meglio. Debutto agli esami dei licei coreutico e musicale sono materie di seconda prova, teoria, analisi e composizione al musicale e tecniche della danza per il coreutico. Fra le materie scelte per i tecnici ci sono economia aziendale nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing, lingua inglese nell'indirizzo legato al turismo, disegno, progettazione e organizzazione industriale per chi studia meccanica, meccanica e energia, struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo per l'indirizzo trasporti e logistica, progettazione multimediale per chi studia grafica e comunicazioni. Fra le materie scelte per gli istituti professionali ci sono psicologia generale e applicata per l'indirizzo servizi sociosanitari, scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, tecniche professionali dei servizi commerciali per i servizi commerciali, tecniche di produzione e organizzazione per produzioni industriali e artigianali. Anche nei professionali la prova avrà durata di un giorno per sei ore e darà maggiore peso alla risoluzione di casi pratici.